ladies and gentlemen plus 2023 ultimissime battute di questa bella fiera settembrina siamo venuti a commentarle con maria elena veronese marketing manager di filtec eccoci qua eccoci qua si proprio le ultime battute le ultime ore di questa edizione quasi estiva diciamo sia per gli abbigliamenti le affluenze e insomma le temperature che ci sono fuori come è andata ecco appunto come è andata diciamo che è partita ancora un po tutti in vacanza il primo giorno ancora tutti si sentivano sotto l'ombrellone un po lentini un po così però dopo siamo contenti è cresciuta è cresciuta sì sì abbiamo venduto abbiamo anche venduto sì abbiamo venduto ma soprattutto abbiamo anche consolidato chiarito e confermato cose che c'erano in movimento prima delle vacanze e questo ci fa contenti perché abbiamo ricevuto tanti riscontri clienti che avevano appunto questi progetti in essere che hanno voluto venire qui e qui con noi definirli e chiuderli quindi diciamo che siamo contenti eravamo partiti un po come dire un po sottotono ma siamo contenti siamo sempre proprio contenti una partenza lenta ma poi la fiera quando è partita è partita certo sì sì quando è partita è partita adesso siamo anche un pochino stanchi si va a festeggiare fra poco e adesso salutiamo mariana e le chiediamo di fare con noi il nostro perché adesso parliamo con insomma il big boss con il big boss è chi lo presenta il big boss presentalo tu dai io presento ehi giovanni baracco si io allora com'è andata questa fiera molto molto bene siamo tutti contenti perché siamo arrivati alla fine siamo abbastanza stanchi però insomma dai anche perché c'è tutta una preparazione dietro anzi colgo l'occasione per ringraziare tutto lo staff commerciale che ha seguito dall'iscrizione al catering servizi tutto quindi tutti bravi tutto bene tra l'altro oggi abbiamo anche concluso una vendita molto interessante di una macchina molto particolare e quindi sono particolarmente contento queste sono belle vibrazioni perché tra l'altro quest'anno la filtex anche festeggiando cosa festeggiamo 30 anni 1993 2023 a giugno mi ha fatto una festa abbiamo festeggiato in famiglia e siamo pronti e carichi per i prossimi 30 solo 30 solo 30 si dai sono abbastanza e per cosa fai dopo penso di riposarmi un po tra trent'anni insomma penso di averne anche il diritto ci vedremo al plus di fra trent'anni al plus 2057 esatto va bene amici cosa dire dai faccio un ultimo commento sulla fiera e sulla tua bellissima azienda beh la bellissima azienda è un bel gruppo sicuramente siamo contenti soddisfatti il mercato in questo momento non è al top giusto riconoscerlo però insomma stiamo facendo buone cose e quindi siamo siamo soddisfatti quest'anno le fiere per noi sono state sono impegnative perché siamo alla quarta fiera e andare a dicembre ne dovremo fare altre due quindi bello posto beh se il mercato non è al top noi siamo al top top